Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Di che cosa ha bisogno un cantante rap oggi? Ci sono degli esercizi adatti per i cantanti rap? Intanto diciamo che il rap è uno stile di vita, quindi cantare rap significa seguire il rap, fare tutto quello che fanno i rapper in un certo senso. Non parlo dei tatuaggi e dell'abbigliamento, questo è una cosa personale, però insomma seguire un linguaggio rap, ascoltare moltissima musica rap, questo sicuramente caratterizza i ragazzi che fanno questo stile, rap o trap che sia. Che cos'è il rap? Il rap viene dall'hip hop ed è un modo di fare musica seguendo un beat o una base strumentale, il linguaggio dei testi rap è un linguaggio di strada così definito e all'interno mantiene delle rime. Intanto un rapper deve avere una buona base ritmica, sicuramente il senso ritmico, vi lascio un link in descrizione di una puntata che parla del senso ritmico, e sicuramente deve sapere che le note musicali hanno un tempo, siccome noi quando cantiamo utilizziamo delle note che hanno sia una ritmica e sia un tempo, deve sapere che ci sono differenze tra duine, terzine, quartine, questo, in modo da non cantare tutto allo stesso modo, e essere ripetitivi, perché in questo modo si rischierebbe di annoiare chi ci ascolta, ma cercare di spostare la ritmica e il tempo, ovviamente poi ognuno fa quello che sente, però una buona conoscenza, almeno della base musicale, è importante proprio a livello ritmico. Inoltre un buon rapper deve avere a disposizione tanta aria per poter rappare a lungo, perché ci sono delle frasi dove non si può respirare, bisogna andare avanti così tutto di un fiato, senza mai respirare, senza mai fare una pausa, e quindi questo ci porta via molto fiato. Ci sono degli esercizi di apnea ad esempio, che ci aiutano a migliorare la nostra capacità polmonare. Sicuramente lo sport è una cosa che aiuta tantissimo, ma se volete fare degli esercizi che vi possano aiutare a non disperdere aria, perché spesso noi abbiamo a disposizione tanta aria, però la sprechiamo andando avanti a parlare o a cantare, ma per mantenere quest'aria e non sprecarla, dobbiamo far sì che fuoriesca solo il suono della nostra voce e non l'aria insieme al suono, in questo modo qua. Quindi un esercizio può essere sicuramente l'apnea. Cerchiamo di non respirare e controlliamo quanto tempo stiamo, se stiamo un minuto, un minuto e mezzo, e ogni giorno possiamo migliorare il nostro tempo di apnea, questo ci aiuta a migliorare la capacità polmonare, e un esercizio che possiamo fare è l'esercizio, diciamo, dei numeri, dove su una nota soltanto noi rimaniamo e contiamo senza sprecare aria, quindi portando la voce in questa zona più alta a risuonare, qui, e contiamo uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, e così via, cercando di arrivare almeno a venti, trenta, io una volta sono arrivato a settanta, per dire, ma davvero ci vuole tanto fiato per arrivarci, e soprattutto, uno, due, tre, se contiamo buttando fuori aria, arriveremo a sette, non va bene, quindi questo può essere un esercizio per conservare tanta aria, e darci la possibilità di fare delle frasi lunghe, senza fermarci mai, e avere tanta a disposizione, questo è importantissimo, per quanto riguarda l'intonazione, diciamo che nel rap non sempre bisogna essere super intonati, perché il genere non lo richiede tantissimo, anche se ci sono tanti rapper che sono molto intonati, ma se si vuole migliorare l'intonazione, a parte utilizzare l'autotune, che aiuta moltissimo in questo, anzi aiuta proprio ad essere intonati completamente, e c'è anche una puntata sull'autotune che vi lascerò in descrizione, si possono fare esercizi e scale, anche con un'applicazione che si chiama N-Track Tuner, poi ve la lascio in descrizione, e dove c'è anche una puntata su come fare degli esercizi per migliorare l'intonazione, e capire se siamo o meno intonati, e vi lascerò anche questa in descrizione, qua comparirà un link ogni volta che ve lo dico, però poi trovate tutto in descrizione, in modo da Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, fare delle scale anche lentamente, Do, Re, Mi, Re, Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, fare anche questi semplici esercizi, vi potete anche registrare e sentire se lo state facendo bene, oppure se c'è qualcosa che non va. Ovviamente se avete un insegnante che vi può seguire, ottimo, altrimenti anche un amico che sapete che è musicista, che canta, se voi non avete la capacità ancora di capire se state intonando bene o meno, inviate l'audio a un amico, mi vedi se sto stonando tantissimo o pochissimo per niente, e sicuramente vi daranno una mano in questo. Per quanto riguarda i testi, oltre ad utilizzare un linguaggio, come abbiamo detto sopra, da strada, o comunque semplice e diretto, in modo che la gente possa capire, si può assolutamente fare una netta distinzione tra la strofa e il ritornello, qualora ci fosse un ritornello anche più cantabile. Quindi la strofa solitamente racconta dei fatti o dice delle cose dirette, mentre il ritornello cura molto di più i sentimenti. Quindi se io sto raccontando oggi mi è successa questa cosa, e poi ho conosciuto una ragazza in un bar, era troppo figa, eccetera, non voglio assolutamente scimmiottare, ma mi vengono queste parole, le dico, e a un certo punto, poi dopo che ho conosciuto questa ragazza, lei è bellissima, stupenda, mi sono innamorato come un pazzo, e poi è successo che siamo andati a casa sua, ok? Quindi raccontare, fare un discorso, mi ha detto sei uno strozzo, bla 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 bla, fare un discorso diretto anche, e poi dire, ma io l'amo, è bellissima, eccetera, oppure, ovviamente gli argomenti sono infiniti, questo è solo un esempio per dire che tra la strofa e il ritornello c'è un modo diverso proprio di cantare, cioè la strofa è più un racconto, il ritornello racconta i sentimenti che noi stiamo provando, solitamente è così. Inoltre un cantante rap deve assolutamente avere una lingua flessibile e allenata, per allenare proprio la nostra lingua ci sono quelli che si chiamano scioglilingua, che sono degli esercizi che fanno benissimo per la nostra lingua e aiutano anche la nostra memoria, diciamo, ad essere attivo, il nostro cervello, sono proprio degli esercizi ottimi per chi fa rap, mentre per chi canta la musica classica, ad esempio, uno scioglilingua può servire a ben poco, ma se voi riuscite a fare degli scioglilingua ogni giorno, vedrete che sarete molto più veloci nel dire le cose, tipo li vuoi quei kiwi? se li vuoi quei kiwi, se li vuoi quei kiwi, te li do quei kiwi, ad esempio, ma ce ne sono tantissimi, 33 tigri contro 33 tigri, io non faccio il cantante rap, però mi piacciono gli scioglilingua e ogni tanto qualcuno lo faccio sopra la panca alla capra crepa, comunque vi lascio un link in descrizione su un sito dove ci sono tutti gli scioglilingua che voi potete fare, partite a farli lenti, pelle filo da pollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle filo di pollo, insomma questi, e vi lascio un link in modo che voi potete poi articolare bene e riuscire a fare dei testi dove gli altri impazziranno per farli, in modo che solo voi potete farli, sto scherzando, però avete presente Eminem? Fare una cosa del genere non è da tutti, quindi gli scioglilingua possono essere un ottimo esercizio. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, se avete delle domande fatela in descrizione, assolutamente vi risponderò il prima possibile e buona musica a tutti!